Per me era già un sogno essere tra i titolari oggi in una partita cruciale che dovevamo vincere. Fortunatamente ho segnato il gol vittoria e credo che non mi dimenticherò mai di questo giorno. Sono felice della vittoria perché questa partita è diventata appassionante sull'1-1. Sono felice che abbiamo segnato il 2-1 che ci ha dato fiducia. E sono anche felice delle mie 100 presenze, oltre che del mio gol iniziale della palma di migliore in campo. Sono orgoglioso di aver raggiunto le 100 presenze in nazionale. Non ci avrei mai creduto quando ho esordito. Che dire, sono contento. Non sono solo stanco, sono anche felice. Tre partite, tre vittorie nel cosiddetto girone della morte. Tutti dicevano che potevamo farcela e noi abbiamo dimostrato che era vero. Ora nei quarti abbiamo la Grecia e non nascondiamoci. Abbiamo tante possibilità di passare. Ma siamo solo a metà torneo. Noi vogliamo restarci fino alla fine, ovvero per altre tre partite.